Non mi sono capace? No. Non mi sono capace di mancare sull'aule? No, non mi sono capace di mancare. Non mi è piaciuto scoccare da un'annogia. Non mi è piaciuto scoccare da un'annogia. Grazie a tutti. 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 No, perché se non è bellino lo togliamo. Ma quale? Il tappeto è grande. No, è bellino. No, è bellino. Allora, il tappeto resta così. Il tappeto resta così. Io stavo dicendo. Io stavo dicendo la tappeto e la tappeto. Sì, sì, sì. Se mettiamo questo tappeto qua... No, adesso devo dire il tappeto. Allora, questo va con questo. tu stai sempre filmando. Tu stai sempre filmando ogni tanto. non posso fare il tappeto. Non posso fare la mia calzina. sono le tappeto. Sono le tappeto con le calze. Sono le tappeto con le calze. Aspetta. No, non posso fare le calze. Non ho le calze. Non posso fare le calze. Non posso fare le calze. Non posso fare le calze, perché loro sono senza far niente. E finetto dove lo mettiamo? Va bene così? Vengo, aspetta. Ora il bichetto è rinascendo a lui. E' questo bambino. Questo bambino. Stratto la maletta. Non si fa rinascendo un rimorchio. Non si fa rinascendo. Ma vuole legato? E' la mia miseria. Va bene così? Non puoi rinascendo. Non puoi rinascendo. Rimane anche fermo. Non puoi rinascendo. Non puoi rinascendo. Non puoi rinascendo. Maria non ti faccio. Com'è non sai a cavare questa cosa che c'è? Ehi, tanto se non serve. Io non riuscivo a scuttare i cali. No, la ti fermo un minuto. Allora, questa è da frate a conni però. E' distrinta. No, non vuole stretta. Questa vuole un pezzettino. Buona, buona cosa andrà. Per questo il ferro. Buona, buona cosa andrà. No, ma forse è bloccato il ferro. No, bisogna rinascendo. Dì. Devi rinascendo il ferro. Chi è di buona volontà? Per fare? In lavanderia, la mia aspiracolta. E dove l'altro? Come sta di suo il primo piano? Simone, baci. Sommi con te fai. Sommi con te fai. Allora, ma cambierai. Io sì, io sì. Andate ragazze, andate tornate. Pulitevi i piedi prima di salire. Pulitevi le zampe. Te la fai? O salvo io. Andate, sentimi se c'è lui. Che c'è il mattelto. Sommi con il giudice. Trovo a lasciare. Chiudi tutto. Lasciarvi due vitti. la smetti ma sei a casa tua oh la sai che forse è rossa e ne ho che mi sono rimasta di paura beh ma se ci servono io ne l'avrei messa un po' di coccarde per dare anche nel trattore da Simone due fuori però ce ne ha rossa che succede Maria due fuori anche a Simone se no è di fora da dove c'è vado a prendere Alice dobbiamo coprire il ferro? vado a cercare un'altra è figlia? vai prendi Alice poi torni vai donna donna è figlia ti ha matagiato un po' per andare a prendere è troppo affamparanzato quello è troppo affamparanzato quello è troppo affamparanzato quello è troppo affamparanzato giù ciccia giù per coprire questo basta per coprire questo è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima cosa mi stai attendo? hai messo l'altra scritta davanti? no davanti all'altra parte Simmo ti stanno giocando con la Wii appena arriva Paolo te la portai in lisa le coccarne le coccarne le metti in la coccarne dai preparate già ti preparo sta coccarne io puoi vedere sul fuoco non vuole andare a prenderla te la portai in lisa quando arriva Paolo ma è una sincera è un'ottima 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 no c'è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima no prima che ci ha rarizzato Simmo due è un'ottima tefisa vieni 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 si maria nel crattolo lascia l'oro vieni poco poco è un'ottima tanti c'è un'ottima il massimo è un'ottima Grazie a tutti. 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 a tutti.